73 forma di vita chi l'avrebbe mai detto al tempo dei discorsi e dei riflettori al tempo dell'apoteosi a un mese dalla morte gli hanno rovesciato persino la memoria quella mattina la sua statua stava bianca ed enorme in fondo al giardino dello scultore era quasi finita arrivarono due manovali con le subie e le mazze e i cappelli di carta per sfigurarle la faccia la testa crollò con un tonfo sull'erba gli scalpelli sfreggiarono il volto e spensero gli occhi un documento venne firmato e fu tutto commento e opinione diffusa che i leader siano tali perché sono più capaci degli altri e data la loro superiorità non potevano non essere leader i maestri immateriali spiegano che si è leader non per una logica umana mentale ma per la forma di vita per la quale quell'individuo in quella vita doveva fare l'esperienza del leader il fatto che gli abbia le capacità di essere un leader non interessa la legge che spesso si serve di altri strumenti per fare di quell'individuo un leader della sua famiglia di origine della sua educazione delle sue amicizie delle sue condizioni di salute delle sue capacità di rapportarsi agli altri insomma di tutte quelle caratteristiche che spesso non hanno nulla a che fare con le sue capacità di leader che inizia a comprendere accetta l'assoluta relatività di ciò che accade nel piano fisico e nei successivi piani della percezione il piano astrale e il piano mentale questi piani infatti non sono la realtà ma la rappresentazione della realtà la quale vige nel piano della coscienza così le guide spiegano che i miti le ideologie la stessa storia tutto ciò che accade nel piano fisico è relativo e quindi transeunte acquista il suo vero significato se gli si dà il valore di evento vibratorio cioè di esigenza evolutiva che promuove il costituirsi della coscienza individuale e collettiva non è vero significato se gli si dà il valore di tutto ciò che si dà il valore di